Al via Puro, pianificazione urbana di Roio, un progetto territoriale che punta a individuare, valorizzare e a mettere a sistema le potenzialità della collina di Roio, una vera e propria riserva verde della città dell'Aquila. Un progetto partecipato e condiviso che ha visto la collaborazione di 11 giovani progettisti, l'associazione Viviamo la Q, gli usi civici della frazione di Roio, l'Università dell'Aquila e diversi studi di architettura, associazioni locali e i cittadini. Ossia i destinatari attivi degli interventi che compongono il masterplan di Roio. Il progetto è frutto di un percorso partecipativo avviato dalla passata amministrazione. Si è progettato alle esigenze e bisogni del territorio di Roio che vive praticamente problemi simili a quelli degli universitari in termini di servizi, di mobilità, tant'è che il progetto ha focalizzato l'attenzione e sviluppato due temi, quello degli spazi pubblici, quello della mobilità, attraverso un percorso partecipato con la popolazione e attraverso sintetizzato in delle proposte di azioni locali che propone il gruppo all'amministrazione, all'università come soluzioni che poi loro dovrebbero in qualche modo farsi carico di sviluppare. L'Università dell'Aquila sostiene gli studenti con 11 borse di studio. L'augurio adesso è che il progetto possa realmente essere acquisito e fatto proprio dal Comune e dunque realizzato. Questa occasione che ci è stata prospettata insieme al Comune e all'Associazione Viviamo la Cucca è composta da nostri studenti, è stato proprio quello di fare in modo che ci fossero nostri studenti che diventassero attori del progetto, almeno di un'ipotesi di progetto di riqualificazione urbana e quindi l'abbiamo finanziata attraverso una cifra abbastanza modesta, sono 20.000 euro che comunque sono stati utili per finanziare un certo numero di borse di studio. Che cosa vi aspettate ora nei confronti del progetto? Noi ci aspettiamo di poter continuare, ma più che noi che ci abbiamo lavorato se lo aspettano le associazioni che abbiamo coinvolto che ci hanno aiutato e sono state fondamentali anzi nello sviluppo del progetto e quindi noi abbiamo lavorato per loro, abbiamo lavorato per il territorio e vogliamo che continui, che le azioni che abbiamo progettato diventino azioni reali per loro innanzitutto più che per noi.